Blitz all'alba di oggi degli agenti della squadra mobile e dei carabinieri di Reggio Calabria coordinati dalla procura guidata da Giovanni Bombardieri. Sei le persone finite in carcere, due i domiciliari. Le investigazioni sono state svolte sotto le direttive del procuratore Vicario Gerardo Dominiani e dei sostituti procuratori Domenico Cappelleri, Paola D'Ambroso e Andrea Sudani e hanno visto la confluenza di vari filoni investigativi sviluppate dalla Polizia di Stato e dall'arma dei carabinieri. A finire in carcere sono stati Carmine Alvaro, Antonio Rocco Leonello, Francesco Trefiletti, Giuseppe Agostino, Antonio Giuseppe Palmisano, Rosa Soccorsa Delfino mentre agli arresti domiciliari sono finiti Maria Giovanna Punturiero e Salvatore De Francesco. L'indagine condotta dalla squadra mobile è stata avviata a seguito della rapina perpetrata il 2 ottobre del 2017 presso l'ufficio postale della frazione Sabatello nel corso della quale vennero asportati circa 11.000 euro oltre ai soldi incontanti che la direttrice aveva all'interno della propria borsa. Le attività investigative hanno consentito alla Polizia di Stato di accertare che a commettere la rapina erano stati Carmine Alvaro e Rocco Antonio Leonello i quali erano penetrati all'interno dell'ufficio postale armati sia di pistola che di mazze ferrate mentre Giuseppe Palmisano e Giuseppe Agostino concorrenti alla rapina avendo fornito un contributo determinante per il buon esito dell'azione delittuosa. La successività attività di intercettazione telefonica aveva fatto emergere che Carmine Alvaro, Rocco Antonio Leonello, Francesco Trefiletti, Rosa Soccorsa Delfino e la figlia Maria Giovanna Punturiero avevano organizzato il 27 novembre del 2017 un'ulteriore rapina all'ufficio postale di Pellegrina di Bagnara Calabra in provincia di Raggio. Quest'ultima rapina vedeva la partecipazione attiva di Maria Giovanna Punturiero nel luogo di Basista. Nella continuazione delle investigazioni emerge chiaramente come Antonio Rocco Leonello, Carmine Alvaro costituivano unitamente a Francesco Trefiletti il vertice di un sodelizio criminale dedito alla programmazione e alla preparazione dei delitti contro il patrimonio mentre Rosa Soccorsa Delfino e Giuseppe Agostino rappresentavano punti di riferimento delle rapine operate nel territorio in provincia di Raggio Calabria. Si è riscontrato inoltre che tutti i membri dell'organizzazione criminale ponevano in essere chiare attività prodomiche alla commissione del delitto contro il patrimonio organizzando sopralluoghi in prossimità di possibili obiettivi abitazioni private, uffici postali, procurandosi attrezzi e oggetti atti allo scasso tra cui lo strumento chiamato organetto dal quale prende il nome l'operazione di polizia. Grazie a tutti.